Salute ragazzi, ben tornati in questo nuovo video, ci troviamo come l'ultimo video scorso, ma questo non lo sto preparando molto bene allo speciale perché è successo tutto nello stesso giorno e vi ringrazio di essere arrivati ai 100 iscritti lo so che non è un grandissimo traguardo, quindi può arrivare ai 1000 iscritti, cose qua però almeno siamo arrivati ai 100, che sono comunque 100 persone e io vi ringrazio e non so che dire, scusate se... no, ieri ho portato il video? no, ieri scusate se non ho portato i video perché non ho potuto, perché sono andato a giocare e quindi non ho potuto portare il video, però lo speciale in realtà ieri abbiamo raggiunto i 100 iscritti e anche se ora, se non so, siamo a 99, era cosa del genere perché c'è qualcuno che esiste che si è trovato l'escritto però comunque io il numero 100 l'ho visto e se volete vi metto alla fine, vi metto anche una parte della foto cioè una parte che c'è scritto 100, ve lo metto tutto alla fine oppure in mezzo al video e ragazzi, cioè io vi ringrazio, comunque oggi mi sa che porteremo forse un altro video sulla play porteremo il video di Call of Duty, Rocket League, Fortnite, non lo so, vabbè forse Fortnite, GTA e poi vediamo ragazzi volevo solo fare questo video per ringraziarvi, lo so che non è un video molto speciale, speciale tra virgolette lo porterò lo speciale dei 100 iscritti, non sarà questo, però ci sarà un po' più avanti però non ci sarà perché in questi giorni, cioè non ci sarà oggi, i giorni che siamo arrivati perché è successo tutto in un giorno e per questo vi ringrazio tantissimo sarà un video corto, però vi ringrazio, cioè poi questi saranno più o meno, questo lo speciale parlato come dire, e con l'altro, il prossimo video sarà proprio lo speciale, fatto speciale voi scrivete nei commenti, no come l'altra volta, scusatemi che non attivate i commenti, ho sbagliato scusatemi, stavolta li attiverò, vabbè scrivete nei commenti secondo voi che speciali dovrò portare cosa dovrei fare, e scrivete qui sotto, se volete seguitemi nel link in descrizione che lascio sia di TikTok che di Instagram, iscrivetevi, lasciate like, non so più che dirvi, e niente ragazzi vi ringrazio ancora dei 100 iscritti, e ragazzi ci vediamo alla prossima, ciao gente Grazie 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 Grazie